Una telefonata al 1515 contenente la segnalazione della presenza di braccianti stranieri a Sesto Campano in provincia di Isernia ha permesso agli uomini della Guardia Forestale e della Polizia di mettere a segno una maxi-operazione finalizzata alla repressione del fenomeno del caporalato troppo spesso al centro della cronaca nazionale. Erano in 46 la maggior parte donne provenienti dalla Bulgaria, impegnate nella raccolta di fagiolini, tutte irregolari e senza documenti di riconoscimento, 30 euro per una giornata di lavoro. Dalle prime indagini sembrerebbe trattarsi di extracomunitari condotti nel piccolo centro ai confini con la Campania con veicoli con targhe bulgare. Arduo compito quello delle forze dell'ordine che hanno tentato di dare un'identità ai braccianti sfruttati su quel campo. Sembrerebbe che il terreno in località Ponte Nuovo appartenesse ad un residente della zona il quale da poco lo aveva ceduto dietro compenso ad un imprenditore di Mondragone nel Casertano. Proprio da questa zona infatti avrebbe avuto origine il caporalato, anche se l'affettuario del campo interrogato dagli inquirenti ha respinto ogni accusa sostenendo che l'onere della raccolta dei fagiolini non fosse affatto a suo carico. Oltre alla forestale sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica di Isernia, coadiuvata dai carabinieri della compagna di Venafro. Si indaga per sfruttamento. Un fenomeno quello del caporalato su cui il governo nazionale ha posto particolare attenzione. Entro due settimane infatti sarà messo a punto un piano d'azione organico e stabile contro il lavoro irregolare nell'agricoltura. Mentre in tempi stretti arriverà anche una legge che prevede la confisca di beni per le imprese che si macchiano del reato di caporalato, come avviene per i mafiosi, ha ribadito il ministro delle politiche agricole Maurizio Martina.